Oggi che mi hanno fatto le mie amiche mi hanno portato il mio paese ciao ciao da agoro saluti a tutti bellissima Fumite le tionare adesso si Sì, siamo pronti a fare un'altra parte. Dove è andata la Goranta? Un vino di giufola Un vino a Gorina Frecchi tre gradi Rorino Se veno Vomani anche Bene 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.